Ehm, raga, comunque qua, come avete detto l'altra volta, c'era il telefono, qua c'è Sì, c'erano velici da roba, già è vero, velici cazzi, ok raga, ora, qualche sappiamo che non c'è nessuno, porco d'ini, ma stai scherzando, sta suonando, no no no, viene da qua, no no no, raga no 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 no, ho suonato il telefono, e non ci aggirà, come? Cazzo li vediamo, sta suonando il telefono, no raga, impossibile, è staccato questa casa se suona di nuovo ma questa casa è vecchissima se suona di nuovo rispondiamo no 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 ma io non ci credo questa casa farà 30.000 anni ma non ha la corrente guarda mi sembra la scena del piano ho anche più molto prima il pulsante ma c'era la luce incredibile no torniamo puoi farlo suonare di nuovo per favore puoi farlo suonare rispondi 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 non ci credo no 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 metterlo qua pronto pronto vi vengo a prendere che cazzo di atto no no cosa ha detto vi vengo a prendere vi vengo a prendere no raga via via no raga dobbiamo resistere è suonato il telefono ok non possiamo non possiamo andarcene siamo venuti qua per il video dobbiamo muovere ancora no io direi no 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 perché se andiamo su ancora scappiamo te lo dico io mi cago addosso si ma raga è impossibile comunque non ci credo ce l'ho da un'altra ce n'è uno no dai che se suona anche questo no 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 non è possibile ma se suona su fanno anche giù dici io non ho sentito giù ma raga è impossibile che suoni dai vabbè raga andiamo giù lasciamo la storia questa se suona scappiamo dai scuola c'è una bottiglia che non c'era dai no 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 l'ho registrato nel video se vuoi ti faccio rivedere le immagini aspetta Alba aspetta te lo giuro io non l'ho vista allora qui non cazzo è un po' che bello qui è una bottiglia di bello no è un po' che bello si che bello raga andiamo lì ti faccio vedere Alba come sei sotto un'altra come sei sotto un'altra questa roba ti propone il mio grasso si si ho fatto a fuoco si 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 vedremo ecco come sono ancora saputo il mio grasso il reno qua sotto vai accendolo va via ecco ecco la